Ciao a tutti, sono quello che fa le cose anche lui seriamente, però forse sarò quello un serio di tutti. Io sono Daniele Diamante Vitrone, vengo dal Brasile, poi vengo da Roma, poi mia mamma è siciliana, mio papà è napoletano, ho scoperto il mio nome a vent'anni, insomma c'è un po' di spaesamento anche in senso letterale nella mia vita. Quello che io faccio è, tengo laboratorio di scrittura e di rap con i ragazzi e le ragazze di tutte le zone, per lo più di periferia e siamo, sono fra i pochi, per ora ancora, fra i pochi in Lombardia e in Italia che lo fanno a tempo pieno proprio, quindi proprio come primo lavoro. La cosa bella è che non c'è letteratura uscita su come si trasmette e insegna il rap, perché in teoria nemmeno si insegna, quindi ci stiamo un po' rabbattando fra di noi, ci stiamo confrontando, stiamo scrivendo le cose fra di noi e prendendo un po' di qua, un po' di là ed è una cosa molto divertente e quindi stiamo cominciando ad avere per fortuna l'aiuto anche di persone che sono dell'ambito accademico, anche perché ci sono addirittura anche dei rapper che sono formati in quel senso e quindi piano piano il sogno è che fra qualche anno il rap possa essere veramente utile all'interno delle scuole, perché è affiancato dalle persone che riescono a coglierne veramente la piena potenza in ambito scolastico ed educativo. A me, come ci sono finito qua in questa situazione? Io vengo, sono cresciuto a Roma negli anni 80, 90, forse la parola giusta è anormale, penso che siamo tutti d'accordo, anormale, a nero con la G, poi Roma negli anni 90, insomma 80, non è che era? Molto a Roma si dicono le cose con meno gentilezza forse rispetto in certi posti del nord, quindi ognuno ha il suo appellativo e diciamo che a me ovviamente quello che arrivava più di tutte. Quindi adesso per mettere a posto questo discorso, perché già si sta cominciando a incasinare, una cosa che mi può venire in aiuto è una frase di un mio film preferito del 2000 che è Scoprendo Forrester con Sean Connery, che fa lo scrittore famoso, che forma un ragazzo della periferia con grande talento per la scrittura, e c'è un certo punto in cui Sean Connery arriva recitando la poesia di questo ragazzo che cominciava più o meno così dicendo quando perdi la tua famiglia sei obbligato a cercarne un'altra e non per forza la famiglia che abbia il tuo stesso sangue ma quella che potrebbe averlo. Quindi va da sé che un po' il figlio adottivo con un po' di pochi riferimenti come dicevamo prima negli anni 80-90 in televisione c'erano dei riferimenti pessimi per quel che riguardava le persone un po' scure di carnagione. Tutto questo arriva l'hip hop, arriva il rap e per la prima volta non vedi il nero che fa il cameriere, non vedi il nero che fa per forza lo sportivo ma vedi il nero che ha un suo stile e dice qualcosa e poi vai a scoprire che quel nero lì è apprezzato dalla sua comunità perché dice delle cose importanti per la sua comunità e cambia veramente le cose ed è figlio di un politico, di un attivista, sto parlando di Tupac in questo caso, però ce ne sono tantissimi, tantissimi. Quindi a me fondamentalmente che volevo i capelli biondi effettivamente era così scoprire per la prima volta che esisteva un nero che era uno a cui potevo rifarmi effettivamente e viva la musica hip hop, viva il rap, la musica nera, viva. E quindi dov'è che si sente il rap? Sono andato a cercare i posti in cui era presente questa cultura. Per fortuna a Roma negli anni 90 c'era gran fermento, c'erano molti neri francofoni, anglofoni che portavano anche ai primi pionieri del rap romano la cultura del del rap francese che stava più avanti, del rap americano che stava ancora più avanti. E l'hip hop nasce proprio da un gruppo di immigrati al massimo di 20 anni, di un quartiere povero in cui c'erano anche ovviamente dei caucasici, degli americani, poveri anche loro. E come hanno inventato l'hip hop? Come è stato creato l'hip hop? Dalla decisione di riunirsi, dalla decisione di emanciparsi, dalla decisione di creare qualcosa quando tutto ti diceva che tu non potevi creare niente. Quindi per me era perfetto. Cioè proprio la cosa perfetta. Detto questo, quindi a un certo punto le poesie che scrivevo, le cose che scrivevo erano diventate tutte arrabbiate perché avevo trovato un canale per riuscire a sfogarmi veramente. Quindi a un certo punto dicevo loro sono con me, loro sono me, se mi guardi bene in faccia scoprirai il perché. I miei amici cantavano vorrei darti la mia pelle solo per questa sera, per poterti far vedere qual è la guerra vera. Quell'altro diceva sono nero, vero, bello e fiero, sono un mostro. Dicevano così i miei amici che erano in Italia da quando avevano 12-13 anni con cui avevamo fatto questo disco che poi è rimasto storico nella storia dell'hip hop, un po' diciamo afro, ma anche dell'hip hop italiano. Detto questo, arrivato a un certo punto questo romanticismo è finito perché tu dici dopo un po' basta, la mia storia sarà la mia arte, ok? La mia storia è la mia arte. Beh, poi cos'altro sono oltre che la mia storia? Perché mi sembra che ho finito di cercare, oppure sto cercando però mi sembra che sto andando a cercare sempre un po' le stesse cose che chiamo in maniera diversa. Sono andato in Brasile, ho scoperto la mia madre terra, non la mia madre biologica. Che consiglio a chi magari viene fuori di trovare la madre terra, che non è per forza farsi un viaggio di chilometri, ma anche scoprire le proprie radici, scoprire quello che è nel profondo ed è in comune con gli altri. Molto capace che delle volte uno lo scopra quando fa un figlio, cos'è la propria madre terra. Quindi dopo tutto questo viaggio, arrivato a un certo punto mi ritrovo con... ho finito. Io di me che cosa posso dire ancora? Dico sempre le stesse cose, parlo solamente del fatto che sono io, che sono straniero in mezzo a un paese che è così, questo, quest'altro. La motivazione per continuare quella carriera musicale che volevo era venuta a mancare, perché avevo messo un po' i piedi per terra quando è il momento, intorno ai 25 anni, di dire sì ma questa cosa qua la devi rendere pratica, concreta, durevole nel tempo. Quindi prendila come un lavoro, ok, allora di cosa parlo, che cosa faccio? E mi sono perso presso un'etichetta discografica, presso gente che mi diceva comunque giustamente cerchiamo di fare così, cerchiamo di fare con lì, ma no ma falla in spagnolo, ma no non dire la parolaccia, ma no ma vestiti così, ma no ma metti gli occhiali da sole. E arrivato a un certo punto basta, stavo studiando scienze della formazione, stavo facendo rap, avevo cominciato a fare il rapper durante il tirocinio in comunità e l'educatore sui dischi, non riuscivo a capire più quello che volevo dire, quello che volessi dire, quello che volevo trasmettere. Quindi a un certo punto ho detto basta, basta l'università, basta l'etichetta discografica, mi rimetto a studiare, vado a Milano. E mi sono messo a studiare per circondarmi, così mi sono detto. Quindi ricomincio a studiare con grande aiuto dei miei genitori. Ho studiato qualcosa che non aveva a che vedere con la creatività, ma era vicina. Però non mi piaceva fare il tecnico del suono, neanche quello. E allora vai a cercare la tua passione, cerca, cerca e accumula, e accumula saperi. Ok, è bello accumulare saperi, poi incontri il professore che ti dice guarda Vidrone che la gente non cerca uno che sa fare un po' di tutto. La gente cerca uno che sa fare una cosa bene. Ah ok, allora cosa devo imparare a fare ancora meglio? Però cos'è che mi fa sentire bene nel profondo? La scrittura. Però sono sempre io, è solo io. Come posso renderla, come posso allargare questa vita? Come posso allungare questa memoria? Ah ci sono anche gli altri. Esistono anche gli altri, mi sono reso conto a un certo punto. Parlando con una donna, una signora, una donna che mi venne a dire guarda che mio figlio, mio nipote sta passando le stesse cose a 18 anni che tu passavi, che tu hai appena raccontato. E si è commossa questa donna accanto a me. E io non sapevo che dirle, però sono riuscito a, in qualche modo, a consolarla. E il nipote di questa donna si chiamava Solomon, non so dove è finita questa donna, sarebbe bello rincontrarla e sapere come sta sto Solomon. E alla fine ho scoperto che si chiamava come mia madre adottiva, Caterina, che è mia mamma vera. E questa cosa a me ha fatto fare un piccolo click, come a dire, ah lo vedi, allora tu devi imparare, devi affermarti, non solamente più per te stesso, ma anche per far conoscere ai ragazzi più giovani che ci può essere una persona più grande di lui, di 15 anni, di 20 anni, che ha passato le stesse cose, cosa che io non pensavo che esistesse alla mia età. Però era poco ancora, no? Cioè, vabbè, a dirlo è facile. Quindi tutto il percorso che ho fatto io nel tempo è quello di cercare di riuscire a capire quanto sia importante per me comprendere la felicità degli altri nella mia vita. Ed è questo che coincide adesso con la nuova visione dell'hip hop che ho io adesso. Perché quando ho scoperto l'hip hop era emancipazione. Per me l'hip hop era casa mia. Per me l'hip hop era la pressione sociale. Io chiamavo hip hop quella cosa, quella sofferenza lì. E nessuno poteva dire nemmeno di no in un certo senso. Perché era un po' così. e l'hip hop nasce in quel contesto. Però l'hip hop è qualcosa di più. È una cultura che, o sottocultura, che si compone di disegno, di danza, di canto, di musica, di conoscenze. Che è qualcosa che va molto lontano nel tempo come cosa. E soprattutto si compone di scambio e di ascolto reciproco. Che è una cosa che io inseguo sempre. Quindi paradossalmente nei laboratori rap che tengo, e ho scoperto di essere bravo particolarmente con le scuole medie e le elementari, perché mi diverto un sacco, si impara ad ascoltarsi. I ragazzi fanno la canzone tutti insieme, scrivono la canzone tutti insieme. Ogni lingua diversa è una grande ricchezza che viene ovviamente lodata. E se hai un'idea che non ti piace del bambino o della bambina o del ragazzo o della ragazza accanto a te, devi dare un'alternativa. E poi alla fine scopri, cantando tutti insieme, che cantare tutti insieme, soprattutto con i piccoli, nasconde l'errore degli altri, perché si crea una voce unica, scopri che quello sforzo che tu hai fatto nello scrivere, nel decidere anche quell'articolo, è stato uno sforzo condiviso ed è stata una cosa molto bella. Sembra una favoletta, però aiuta molto. Da questi laboratori, dai miei laboratori, la cosa bella è che sono nati dei figli, è nato Voci di Periferia, una serie di serate che organizzano i ragazzi, è nata una radio da questi ragazzi, che ha fatto nascere un'altra radio sempre da questi ragazzi. E adesso sono a caccia dei nuovi diciottenni che ci ispireranno, perché i giovani da me non devono essere ispirati per niente, perché i giovani sono giovani e ispirano a me. Poi io sono anche giovane, però di solito i giovani da me non hanno bisogno di ispirazione, hanno bisogno che gli passi qualcosa magari. Guarda, io ho visto questo, conosco questo, però sicuramente l'ispirazione che adesso arriva a me è da parte loro verso di me. E la rabbia che provavo prima, adesso, grazie ai ragazzi ha fatto sì che io scriva anche meglio il rap. Finalmente, con tutta la calma del mondo, come Buena Vista Social Club, sto cominciando a far uscire cose nuove che mi piacciono e di cui sono molto soddisfatto, che parlano sì delle mie radici, ma anche delle radici comuni che abbiamo con tutti gli esseri umani, che sono quelle di essere parte tutti quanti della vita e della diversità, perché anche il figlio adottivo è diversissimo da ogni altro figlio adottivo, quindi come ogni persona è diversa da ogni persona. E la cosa bella è che mi chiamano a fare i laboratori rap perché so fare i laboratori rap. quindi insomma, cosa dire, cerchiamo di creare arte, comunicare arte, non condividere contenuti, che è meglio. E chiudo dicendo un po' di cose in rima su quello che per me è la musica. è la mia vita, la mia casa, la mia cosa, è la mia sposa, la mia musa, la mia spesa, è la mia salita, la mia scialata, è la mia mente impallata e non vedi l'altra sponda al rio della plata, è il mio puma di pietra, titicaca, è la mia musica, è la mia donna ubriaca, è la mia strada, pure quella sbagliata, è la mia ritirata, la strategia è l'avanzata, è il coraggio, la svolta, lo spirito di rivolta, rivolto inoltre allo spirito di ricerca, contro una vita finta, lavoro duro, devo sfonna sto muro, un'altra spinta, ho queste ali in prestito, il vento contrario, ma non ci godo più a camminare sul binario, mi risollevo, sollievo e sollevo il sipario, cercando unità, come fa? Credi in me e ti porterò come in me, credo quando vedo che tu credi in te, di te mi fido, se vedo che te ti fidi di te in questo mondo, non c'è l'isola che non c'è, credi in me e ti porterò come in me, credo quando vedo che tu credi in te, di te mi fido, se vedo che tu ti fidi di te in questo mondo, non c'è l'isola che non c'è, grazie. 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 Grazie.